Il Limiti è una banca di nuova generazione e per noi la sostenibilità è un tema nativo, infatti ci definiamo Sustainable Native, quindi abbiamo inserito ed alimentato la nostra strategia con elementi di sostenibilità che sono strettamente intrecciati con il business. Ovviamente per far questo siamo partiti dalla nostra ragione d'essere, il cosiddetto purpose, che nel nostro caso è quello di supportare, facilitare, accendere il potenziale di individui e di imprese. Lavoriamo molto con il sistema produttivo italiano e anche e soprattutto con imprese che stanno avendo fasi di difficoltà o devono rilanciarsi, quindi già in questo c'è un obiettivo, un impatto sociale molto forte. Dei temi del PNRR, ovviamente due in particolare sono affine e strettamente collegati anche alla nostra strategia di sostenibilità e sono da una parte lo sforzo nell'accompagnare la transizione ecologica, transizione sostenibile delle piccole e medie imprese da modelli di di un certo tipo che anche provocano forte emissione a modelli a bassi livelli emissivi e in questo le banche possono e devono giocare un ruolo importante e d'altra parte c'è una seconda gamba altrettanto importante che è quella del supporto e alimentazione, della digitalizzazione del sistema imprenditoriale italiano. Noi siamo fully digital, completamente in cloud e anche il nostro approccio al credito e di facilitazione del credito per le piccole e medie imprese digitale, in questo senso siamo anche un avamposto di digitalizzazione e vogliamo fare education sui percorsi digitali e tecnologici per le piccole e medie imprese. Quindi su tema PNRR sarà molto importante per tutti i gruppi finanziari e anche per noi essere impegnati su vari fronti a presidio e per noi i fronti di sostenibilità, transizione ecologica e digitalizzazione.